Ma quello che a me preoccupa, le dico sinceramente, per quello noi penso siamo stati sempre in prima linea difendi i frontalieri più che il referendum sono i nuovi accordi che si stanno prendendo tra governo italiano e governo svizzero perché quelli si danneggeranno direttamente i frontalieri che vuol dire un aumento molto importante della tassazione sul lavoro dei frontalieri e minore il ristorno di una parte di tasse ai comuni da dove i frontalieri arrivano fino adesso perché funzionava così? Perché i frontalieri pagano le tasse in Svizzera però vivendo in Italia c'è sempre stato un ristorno perché dei servizi ne usufruiscono in Italia per la stragrande maggioranza. Il nuovo accordo dovrebbe pervedere, mi auguro che non sia così e che il governo italiano si faccia portavoce per tutelare i lavoratori frontalieri un aumento di tassazione e un minor ristorno, quindi ovviamente un danno su tutti i fronti su queste sono cose concrete su cui i frontalieri purtroppo saranno penalizzati più che il referendum ed è quello che ci preoccupa perché la vita quotidiana di quelle 62.000 persone che ogni giorno si fanno centinaia di chilometri per andare a lavorare.